Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo incredibilissimo video su Yandere Simulator Mi sono retta ho fatto un grandissimo ritorno su Doki Doki e a questo punto Perché non fare un grandissimo ritorno anche su Yandere Simulator Anche perché qualcuno di voi me lo ha richiesto quindi grazie comunque come sempre ragazzi per il supporto per i commenti e per tutto il resto appresso Vi ricordo appunto che il sostegno con il like è assolutamente fondamentale ragazzi per questi video Molto probabilmente ragazzi potranno esserci altri episodi su questo gioco perché come qualcuno di voi mi ha detto giustamente E' tanto tempo che non ci giochi quindi sono state aggiunte veramente tante cose Per cui magari anche con i vostri suggerimenti perché ovviamente ragazzi io adesso non saprò più niente riguardo questo gioco Quindi non so quali sono le effettive possibilità di questo gioco Aspetterò nei commenti i vostri suggerimenti se avete consigli o se magari volete indicarmi anche cose da fare Chiaramente tipo challenge tipo sfide o roba del genere Per cui per avere un prossimo episodio su Yandere Simulator ragazzi vediamo se riusciamo a raggiungere i 70 like E quindi eccoci qua dopo così tanto tempo appunto ragazzi mi fa strano essere di nuovo qui Già questa schermata iniziale mi sorprende non poco per cui incominciamo What the fuck What the fuck Chi mi spiega questa cosa ragazzi Ah ci dà la possibilità di impersonare anche un'altra Yandere evidentemente Però nel 1989 e comprende 10 ragazze rivali Oh mio dio Allora io direi che per ora ragazzi questa la lasciamo perdere Se la volete vedere fatemelo sapere Insomma comunque ovviamente direi che oggi ragazzi ci facciamo un giretto su questa Possiamo anche scegliere ragazzi il sesso Il nostro amore Io andrei comunque sul maschio Possiamo chiaramente personalizzarcelo come più ci piace Ammappedee Che panchettone Direi che scelgo questo Mi ispira Vabbè facciamo rosso così rosso fuoco Il colore degli occhi rosso fuoco Però insomma la barbozza grigio Va bene sì dai col pizzetto ragapretto va benissimo così Quindi scegliamo le uniformi Direi che questa tipo alla Matrix mi piace da morire E per la nostra Yandere direi che questa qua tutta nera è estremamente sensuale Per cui sceglierò questa E procediamo Certo che voglio procedere Assolutamente Cancante Wow 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 Signori wow 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 Ammazza che entro Che entro ad effetto Ragazzi Mamma mia ho avuto i breviti apadipidi Quindi non è più Cocona la tettona Non è più Cocona la tettonazza Ragazzi questa è dette Ce le abbastanza normali Quindi lei sarebbe contenta Se succedesse qualcosa di male Quindi abbiamo un'altra Psicopatica furiosa A scuola Mi falla soffrire cazzo Wow 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 Bababia Mi piace sta cosa Sono tutti pazzi furiosi Ed eccoci qua la nostra piccola Yandere Qua c'è come al solito il piccolo tempio Dedicato a senpai Possiamo cambiarci le mutandine Io direi di andare Possiamo andare anche in cantina In città o a scuola E possiamo scegliere uno strumento Da portare con noi Ok come possiamo vedere ragazzi I vari strumenti hanno anche varie funzionalità Nel senso che si Potono essere utilizzati come armi Per fare del male agli altri Ma per esempio Questo qua il cacciavite Può essere anche utilizzato Per insomma disattivare Il metal detector Bla 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 Che ficata Bella sta roba Allora qua abbiamo i vari comandi Ciao ragazzi Dov'è il mio senpai Che voglio dargli già un bacino Ma c'è ancora Cocona la tettona Ma c'è qualcuno Oh eccola è lei Perché scappi Perché ammazza ragazzi Ancora quelle sue poppone E vai in giro con la sua amica poppona Mazza santissima Il balcone è ancora quello Ma io Ah Eccoti qua Faccia da cazzo Non te fermi neanche Mi sa che sei una bella spina nel culo Oh scusate Mamma mia Ero solo qua vicino Dio santissimo Parlate pure Gossip Socialize Oh mio dio Ma cos'è tutta sta roba Ho capito Ho capito Di parlare bene Di parlare male Di vari argomenti E vedere se le persone Insomma come reagiscono Riguardo quella roba là Ammazza Ma che cazzo Ti sei messo in testa zia Oh eccolo qua Oh my god È lui Sarei mio Per il resto della tua vita Ok ragazzi Io voglio fare prima un giretto Ma dai Ma che spettacolo Ma come Oh Ma che figata è ragazzi No vabbè Che spettacolo Posso prendere sta roba Potere del cristallo di luna Vieni a me Queste sono le pinzette Perché le ho prese le pinzette Che me le dovrei fare Dove me sono ficcate le pinzette Mi dissocio Volevo prima dare uno sguardo qua in giro Uh il club dell'occulto Madonna Ragazzi vi ricordate che cosa avevamo combinato Nel club dell'occulto Era una cosa Era una cosa Incredibile Oh il club di cucito Guarda i pupazzetti C'è anche il pupazzetto del mio senpai Sembra di no Ehi Oddio Perché stai così Io mi chiedo quale sia Lo scopo Di parlare con la gente Così forse per ottenere favori O non lo so C'è il fatto di socializzare Con certe persone Oddio la busta della spazzatura No top Ah pensavo di poterlo usare Tipo per soffocare qualcuno Candegina Bleach Non so se di preciso È candegina O roba del genere Allora ragazzi Io ovviamente vi ripeto Adesso sono completamente Estranea Alle cose che si possono fare Alle modalità E tutto il resto A presto Quindi Non so di preciso Manco come usarli Certi oggetti Allora ragazzi Consideriamo questo Primo episodio Così proprio di Di preparazione Tra virgolette Perché io guardo Guardo un attimo in giro E vedo cosa c'è Qua intorno E poi voi Voi ragazzi Sarete assolutamente Fondamentali Per questi video Perché voglio Chiaramente Che mi diate suggerimenti Su cose da fare Nei prossimi video Nel senso Guarda giocherino Sai che puoi fare così Puoi fare colà Puoi uccidere in questo modo La puoi uccidere in quest'altro E quindi Ragazzi La prima volta ho giocato a Yandere E così facevamo Nel senso Voi mi davate suggerimenti Che c'è Cosa c'è Che non va Ah no 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 State tranquille ragazzi Scusate ragazzi Cioè sto soltanto Trasportando un estintore Non è che Oh shit Ammazzata Quanto è sexy La preside Ma 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 What the fuck I got myself in trouble Because I wanted To be sent to your office To be honest I can't stop thinking about you I think the two of us Could make sweet music together Oh my god What the fuck Not only is it completely In appropriate To say things like that It could also get you expelled From school It looks like we're not going to get anywhere Since you clearly aren't interested In having a productive conversation I'm sending you home For the rest of the day You are hereby Dismissed Sì però Però non me Non me mette Non me fa Vede la mercanzia Mannaggia Santissima No raga Non ci sta Crede Flertato Con la preside Cioè le cose toppe Mi hanno rimandato a casa E quindi adesso è sera Posso giocare What the fuck No regà No 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 What the fuck What the fuck Cos'è sta roba Non so i comandi manco li ho letti ragazzi Vi dirò sinceramente No vabbè ma no regà ma che ficata è Ma che ficata è Non è l'unico videogioco disponibile Forse se ne potranno sbloccare degli altri Chat Cyber stalking What the fuck Oh io voglio spiare la tettonazza Cocona Cocona si chiama ancora Cocona Cocona la tettona Proviamo ad andare sul programma di chat E' tipo discord Ma serio What the fuck Quella discord No regà Ok mi sta chiamando mia mamma Devo andare A domani Ciao ciao Si 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 a domani proprio Guarda Ok adesso la chat non me la da più disponibile Andiamo un attimo sul Oh tipo sul facebook Non mi fa cliccare da nessun'altra parte C'è soltanto la possibilità di guardare Questa pagina Praticamente Se non sbaglio Forse Mi sa di si Quindi si può anche fare Cioè shopping online Ma questa cosa è epica ragazzi Cioè che spettacolo Dormiamo Bleh Io non ho parole Continuiamo Cioè già Prossimo giorno Allora Oh 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 Dormiamo Oh 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 If you're really interested I'd be willing to let you borrow it But you have to promise to take good care of it R- Really? You'd let me I mean Of course I'd take good care of it That's obvious Alright then I'll let you borrow it Return it to me when School's over Okay? Yeah I will Ok, allora lei ha il suo libro Una stronza di merda Sta andando a raccontarlo alla sua piccola amica idiota Questo è il punto Lei adesso ha il suo libro Ha il suo libro Quindi se lei dovesse rovinarlo Lui potrebbe odiarla A lei non, ah non ti interessa leggere? Eh? Ha un fome di merda che te fai prestare i libri soltanto perché Oddio, così mi ha prestato il suo libro Penso che probabilmente lo metterà nel suo armadietto Almeno mi auguro Minchia raga, chissà com'erano Com'era quel menu per fare tipo le cose Tipo velocizzare, roba del genere Adesso si cambia le scarpe Mi auguro, ripeto, che metterà il libro nel suo armadietto Faccia qualcosa del genere Cazzo ce l'ha ancora lei Oh pure questa ti è stata a cadar culo Mamma mia pare una secca Non so ragazzi questo me lo dovete dire voi Se ci sono Se c'è il menu tipo per fare Le cose tipo speciali Tra virgolette Perché io mi ricordo che Si poteva tipo velocizzare il tempo E robare il genere Io volevo vedere ragazzi Se posso fare qualcosa qui Era questo il suo armadietto Penso di sì Però non mi fa interagire in alcun modo Ok qua dietro si riuniscono i bulletti Che siete voi, i bulletti del cazzo della ceppa Qua c'è l'inceneritore Oh un pezzo di vetro Ma dove va a finire la roba che prendo regà? Non sto capendo Wow che bello comunque come hanno fatto sto posto ragazzi Guardate che meraviglia Spettacolo Oh posso vedere il culetto di Andere Che v'è facendo? Cosa ci fai qui? Amore c'è un gattino cipi Cosa ci fa qui questo gattino cipi? Amore cipi Che non posso interagire Cosa ci fa qui? Perché è qui da solo? Amore smici No non me lo fate lasciare qui È qui tutto solo Poverino Ho bisogno di me Uffa Che mi sto chiedendo È come fare a rubarle il libro Obiettivo Dove? Non so manco cos'è Non so manco cos'è il phone charm Ah è tipo Hedge maze Non so cos'è Hedge maze Ah ok ho cercato la traduzione ragazzi Hedge è siepe Maze è labirinto Quindi l'ha perso lì Ha paura che lei ci si perda Abbiamo almeno adesso un piccolo obiettivo Vediamo Non so manco dove devo andare Forse mi conviene uscire di qua Senpai perché teniamo in giro tutto solo? Che vai facendo? Questo posto è diventato enorme Guardate che spettacolo la palestra Troppo bello Pure la pista da corsa Lì c'è il famoso ciliegio dell'amore Hanno fatto la piscina Non mi dite che la piscina Nooo dai Che spettacolo Che figata regà Fatto sta che non so se farò in tempo prima Che inizino le lezioni Che vuoi? Che vuoi da me? Sto semplicemente correndo Non posso manco più correre Dove cazzarola è? Forse è questo Eccolo qua ragazzi Benissimo Allora vediamo di trovare Sto beneretto ciondolo Magari se glielo riportiamo Ci fa qualche favore O qualcosa del genere Mamma mia regà Non riuscirò mai più a riuscire da qua Eccolo Ce l'abbiamo signori Ce l'abbiamo Quindi le piacciono i gattini Eh Potrei per caso dirle Che dietro la scuola C'è un piccolo carinissimo Gattino Tutto solo Non riuscirò mai più a riuscire da qua Vero? One eternity later Ok Forse sono fortunata Per fortuna ragazzi Ho ritrovato l'uscita Allora Torniamo da lei Anche perché penso che a breve Inisseranno le lezioni Quindi Hanno chiuso infatti il cancello Spero non se ne sia andata da dove era Perché se no bestemmio Ecco qua Le ultime parole famose Sono andati tutti in classe Vero? Accidenti Eccola qua E qua Salve Buongiorno Scusate L'intrusione Ah andiamo nella stessa classe A posto Ho trovato Eh Ok Parleremo più tardi Va bene Ok Facciamo tranquillamente lezione Ma come? Ma come? Ma chi ha detto cosa? Cosa ho fatto di male? Adesso sempai c'ha paura di me Ma cosa ho fatto? Sono andata in giro con una boccia di candeggina Magari stavo andando a sturare un cesso Ma che vor di Cazzo Avevo trovato pure il ciondolino No E' stato abbastanza inquietante oserei dire Ma io volevo vedere cosa succedeva Cioè perché deve essere un reato andare in giro con un bottigliore di candeggina Significa per forza che voglia venire a qualcuno Ma io non lo so Ero pure riuscita a uscire in fretta dal labirinto Accipicchia Vabbè ragazzi Allora Io non voglio far durare troppo questi video ovviamente Come vi avevo detto questo sarebbe stato soltanto un video di prova tra virgolette Per ritornare in maniera ufficiale qui su Yandere Simulator E per questo ragazzi che appunto chiaramente aspetto i vostri suggerimenti I vostri consigli Le vostre sfide Le vostre challenge Le vostre proposte Quindi per fare cose all'interno di questo gioco Per cui questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Dovidocio a tutti ragazzi la giocherina Ciao Ciao